Quindi ringrazio il segretario generale, il segretario nazionale e tutti coloro che sono collegati da remoto. Sì, questa è un'occasione particolare perché parliamo di 30 anni dalla morte di Falcone Borsellino. Noi proprio con il procuratore Emelillo abbiamo partecipato a vari momenti di celebrazione, di ricordo. Di quelle giornate terribili dove hanno trovato la morte anche personale di scorta, personale della polizia di scorta ai due magistrati. La domanda che lei mi pone, io devo dire che vorrei fare una precisazione per quanto riguarda quella che è tutta l'attività di prevenzione che fa carico sulle prefetture. E quella è un'attività particolarmente importante perché anzi le norme sono state modificate anche di recente perché abbiamo previsto proprio una norma a fine 2021, questa vigilanza collaborativa che serve proprio per stimolare gli anticorpi sulle imprese e soprattutto cercando di intervenire anche laddove ci sono dei rapporti occasionali con ambienti legati alla criminalità organizzata, proprio per cercare di recuperare un percorso di legalità e soprattutto tutelare anche quelle che sono l'occupazione di persone che tante volte dipendono da queste società che vengono toccate. Io devo dire che per quanto riguarda i comuni in particolare non mi trovo tanto d'accordo sulle argomentazioni dell'autorità di Bosia, quando o forse non ho compreso bene io perché io credo che è vero ci sono stati dei casi reiterati e non pochi di scioglimenti di comuni per mafia anche a distanza di qualche anno. Io tra l'altro ho relazionato sugli scioglimenti proprio in consiglio dei ministri per dare un po' l'esatta dimensione del fenomeno e io posso dire che quando Bosia dice evidentemente non è stata un'attività molto incisiva quella dei commissari, io non la vedo in questi termini, forse ho compreso male, allora la vedo nel senso che innanzitutto il commissario può stare 18 mesi, prorogabili di ulteriori 6, ma non è una questione di intervento dei commissari prefettizi che certamente svolgono il loro lavoro cercando di reintrodurre la legalità nei vari processi amministrativi del comune, ma è una questione anche di cultura della legalità, che la cultura della legalità fa sì che poi quando ci sono dei sindaci che si ripresentano caso mai dopo sindaci anche che sono stati di comuni sciolti per mafia, che si ripresentano poi alle elezioni e vengono rieletti e questo è un segnale che secondo me è questo il punto che deve impensierirci, perché vuol dire che culturalmente quei comuni nonostante il periodo di gestione commissariale alla fine sono ritornati alla prima scelta che non era certamente quella tendente alla legalità. Allora io vorrei proprio dire che in un momento così delicato quale è quello che stiamo affrontando oggi, che è quello anche relativo ai fondi del PNRR, io l'altro giorno ho avuto un incontro per esempio per le Olimpiadi, anche là, Olimpiadi 2026, e là ugualmente ci saranno risorse, impianti da mettere a norma, quindi risorse che arriveranno anche in quegli ambiti. Allora qua dobbiamo fare, e lo stiamo già facendo, anche protocolli di legalità e vorrei riagganciarmi a quello che si diceva, dice è vero facciamo dei protocolli di legalità, ma poi questi protocolli non corrispondono a comportamenti concludenti, conseguenti alle varie questioni di criminalità, tipo nel caso quando non vengono costituiti in giudizio. Questo dipende dalle singole associazioni, già il fatto che noi per esempio abbiamo fatto dei protocolli di legalità durante il periodo Covid, quando poi sono state erogate risorse ai comuni, alle imprese, l'abbiamo fatta immaginando l'urgenza che arrivassero queste risorse e con la possibilità di recupero laddove i controlli che ci sono stati in tempi successivi, non nell'immediatezza, ma diciamo in tempi rapidi, che hanno poi portato interventi di recupero anche notevoli. Però c'era a quel punto l'esigenza di far arrivare le risorse immediatamente a coloro che avevano necessità, dimentichiamo che erano chiuse le attività commerciali, ricordiamo che tutto un mondo che noi non avremmo mai pensato di poter vedere, insomma un mondo economico che ha avuto certamente delle ripercussioni e ricadute che ancora oggi noi vediamo. Allora io vorrei dire che ritornando a quello che è il tema di questo convegno, che ci dà anche l'opportunità di fare, di ragionare su quello che è stato fatto all'epoca e su quello che stiamo facendo ora. Certamente all'epoca voi immaginate che sfida incredibile la mafia ha apposto a tutte le istituzioni, ai cittadini, una sfida che lo Stato però io vedo che all'epoca certamente ha saputo cogliere, basta dire che proprio quella che è la procura nazionale antimafia e oggi antiterrorismo è stata costituita nell'immediatezza e così anche la DIA è stata proprio in quegli anni, negli anni del 92. Vorrei anche dire una cosa, che quello che era l'intuizione di Falcone e Borsellino, che era il loro metodo Falcone, segui i soldi troverai la mafia, e in effetti assolutamente è ancora oggi così ed è un metodo di cui spesso parliamo anche con il procuratore Melillo perché certamente è quella la strada soprattutto oggi e certamente anche le mafie hanno avuto un mutamento nel corso di questi anni, un mutamento notevole perché c'è un, ecco diceva il procuratore parliamo delle fraude fiscali, di sodalizzi nuovi che si sono creati anche con altri tipi di criminalità e quello è senz'altro vero, però io vorrei anche dire che la mafia certamente oggi ha assunto una dimensione che non è soltanto una dimensione nazionale, ormai parliamo della mafia trasnazionale e certamente non è quella di prima perché se voi pensate anche a Milano per esempio ci sono stati insediamenti di appartenenti all'Andrangheta nelle realtà milanesi, tant'è che lo dicevo l'altro giorno a un convegno, io cosa che ho provveduto all'epoca quando ero prefetto, alla chiusura di una farmacia che era di una famiglia mafiosa da Andrangheta e quindi tramite quella farmacia si faceva un affare e quindi noi siamo riusciti poi a intervenire. Se poi pensiamo, quello che io ricordo a proposito di Falcone, se noi andiamo all'Accademia dell'FBI a Quentico in Virginia, cosa c'è lì? C'è un busto dal 1994, il busto di Giovanni Falcone e cosa c'è questo busto? È una colonna spezzata come se fosse un lavoro interrotto e poi c'era uno scudo con incisa una bilancia e una spada, quindi segno della giustizia. Ma se in un'Accademia la più importante di polizia del mondo c'è un busto dedicato a Falcone, vuol dire che c'è stato un grande riconoscimento anche del metodo investigativo che lui ha portato anche lì, non dimentichiamoci che fu firmata a Palermo la convenzione famosa per cui lui partecipò a Vienna proprio ai primi passi che poi si è conclusa a Palermo con la famosa convenzione di cooperazione di polizia. Quindi se dobbiamo vedere oggi, noi credo che certamente le mafie non sono il riflesso della povertà, non sono quella che è la rappresentazione negativa, tra virgolette, di quella che è un'economia, e questo mi trovo d'accordo con Melillo, perché le mafie se operano fanno circolare denaro. Il problema è che si penalizzano quelle che sono imprese che invece sono imprese pulite, perché non hanno a quel punto spazio, perché ci sta inserimenti nella economia legale di imprese che utilizzano anche metodi di intimidazione, di prevaricazione. Allora su questo secondo me noi possiamo fare ancora tanto, così come non sono d'accordo sul fatto che il lavoro delle prefetture è stato limitato dal numero, dalla carenza di personale, perché se andiamo a vedere che nel 2020 noi abbiamo avuto circa, ho qua i dati, mentre tu parlavi mi segnavo i dati, circa 2.200 interdittive rispetto a 1.500 del 2019 e già nei primi sei mesi, quindi al 30 giugno di quest'anno sono circa 800. Quindi vuol dire che c'è un grande impegno, certamente è come per i magistrati, è la stessa cosa, ogni volta che vado a fare comitati i procuratori si lamentano della scarsità dei mezzi, anche di carattere amministrativo, per esempio ci sarebbe tanto da fare e su questo stiamo lavorando per esempio con la Ministra Cartabia per quanto riguarda le sezioni di Polizia Giudiziaria, perché anche su questo sai bene che proprio da procuratore di Napoli è un problema il fatto della scarsità di personale su questo ambito, però stiamo forse chiudendo un sistema di approvvigionamento che ci consenta di dare risposte anche sui territori. Quindi io credo che certamente il discorso della mafia è un discorso che delle mafie, perché non è della mafia, delle mafie va affrontato in maniera incisiva, io non credo che non ci sia quell'attenzione, perché io da quello che vedo anche interventi normativi ne stiamo facendo, anche in vista dei prossimi interventi connessi al PNRR, quindi bisogna che ci sia la massima attenzione come prevenzione amministrativa, da parte della magistratura e certamente abbiamo collegamenti anche con l'ANAC, perché abbiamo anche con loro lavorato sempre insieme. Devo dire che l'articolo 32, quello oggi non viene tanto utilizzato e invece secondo me poteva essere un sistema di intervento sulla governance di imprese che potrebbe incidere positivamente. Oggi ci sono i controlli giudiziari e quindi abbiamo poi degli interventi della magistratura, ma noi lo potremmo fare, come l'abbiamo fatto anche in tante occasioni, di applicazione dell'articolo 32, che invece sarebbe un segnale importante su questo e quindi è un messaggio che lancio. Grazie.